Dobbiamo incoraggiare gli stati a concordare risposte più adeguate ed efficaci rispetto alle sfide poste dai fenomeni migratori. Lo ha detto Papa Francesco ai membri della Commissione Internazionale Cattolica delle Migrazioni in occasione del Consiglio Plenario che si è concluso ieri a Roma. Sentiamo. Insieme dobbiamo incoraggiare gli stati a concordare risposte più adeguate ed efficaci alle sfide poste dai fenomeni migratori e possiamo farlo sulla base dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Lo ha chiesto Papa Francesco ai membri della Commissione Internazionale Cattolica per le Migrazioni in occasione del Consiglio Plenario che si è concluso ieri a Roma. Dobbiamo impegnarci, ha detto, per assicurare che alle parole codificate nei due patti seguano impegni concreti nel segno di una responsabilità globale condivisa. Secondo Papa Francesco, per liberare gli oppressi, gli scartati e gli schiavi di oggi è essenziale promuovere un dialogo aperto e sincero con i governanti. Un dialogo che fa tesoro dell'esperienza vissuta, delle sofferenze e delle aspirazioni del popolo per richiamare ciascuno alle proprie responsabilità. I processi avviati dalla comunità internazionale verso un patto globale sui rifugiati e un altro per una migrazione sicura, ordinata e regolare rappresentano uno spazio privilegiato per realizzare questo dialogo. Anche in questo, aggiunto il Santo Padre, la Commissione si è impegnata in prima linea, offrendo un contributo valido e competente a trovare quelle nuove vie auspicate dalla comunità internazionale per rispondere a questi fenomeni che caratterizzano la nostra epoca. E mi rallegro, dice Papa Francesco, che molte delle conferenze episcopali qui rappresentate stanno camminando in questa direzione, in una comunione di intenti che testimonia al mondo intero la sollecitudine pastorale della Chiesa verso i migranti e i rifugiati. Infatti, ha osservato Papa Francesco, le molteplici iniziative avviate nei cinque continenti rappresentano le declinazioni esemplari dei quattro verbi, accogliere, proteggere, promuovere e integrare, con i quali ho voluto esplicitare la risposta pastorale della Chiesa di fronte alle migrazioni contemporanee. A auspicò, ha poi concluso Bergoglio, che quest'opera continui animando le chiese locali a prodigarsi per le persone che sono state costrette a lasciare la propria patria e che diventano troppo spesso vittime di inganni, violenze e abusi di ogni genere.